1, 2, 3, GO! 2, 3, GO! E voi, se io non ci sono! Ok, perché non dove? Ok, perché non è un grande, non è un grande, non è un grande... 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 4, GO! 4, GO! Ok, ragione! Voi dai motivi al secondo, vai! 4, GO! Ecco qua, vai! 4, GO! 3, GO! 4, GO! la mia mamma mia c'è un'altra parte c'è un'altra parte ma c'è la mamma elettrizzante per te non posso un'altra parte e' un'altra parte non è un'altra parte che è nata sul suo zampo ho visto un po' di lavoro ho visto che è nata sul suo zampo aspetta la coltella no però è quando la prende la carta per informazione domani la madonna anche le scimmie adesso smettano ma la mamma c'è un tempismo oggi l'alba ardata dio santo beat over il corpo pietro la forma ma la performance è proprio merdoso oh sentratelo di toppro vai 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 va ali ah! si è arrivato Allora che forte sono te sono fortissimo raga porca mattina mi ha morto vai ho farmi mantio tiriamo se mi peri spara come come superazione quando vedo una soffa va 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 vacca ok 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 oddio ci si son arrivare Se ne è andata a cazzo ma vaffanculo io ho rosa di ammazzo con quelle scoregge Simo 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 non disperare guarda Guarda Se vabbè qualcuno ha trovato la Reagan Alla prima cazza lui trova Reagan Ho scoperto di avere 20.000 euro in banca Li spendo tutti per le bibiche E mi chiama mia mamma e muoio ovviamente E questa è la mia fortuna Vabbò che ti rispondi però E questa è la mia fortuna Non dovevi rispondere Però io non so senza gioco Il double tap dove si trova il double tap? Ero appena entrato e mi sono schiacciato tipo tra il muro e l'autobus No e sono morto Si trova il double tap E' vero dove si trova? E' vero il fattoria Perché c'è una portiera qua? Sì è vero perché è fattoria E la pasta dove è andata? Raga il cielo o comincia a fare qualche fulmine? Ma non è che riviene quel coglione Comunque c'è un mp vicino al speedcone Qualcuno Ora mi rispondetemi Qualcuno ha una turbina? Sì ce l'ho io Davvero Sì è un bel ampio che ci teletransportiamo Ma poi anche Ma è la piazza Alla costissima luce Buon passaggio che avvicini il rilascio Ma già hai ragione hai ragione hai ragione Però non ho ragione Tutti diciamo qualcosa di intelligente Mi piace Cioè ma è fece Tu è bello solamente per bellezza Hai la testa per dividere le orecchie Oddio quanti ce ne sono Ok io e lo zio mi stiamo passando di qua Sperazione Perchè non sparare mazzate Che quando qualcuno ti dice non sparare non sparare Se comincia a cederli tutti come me Oddio aspetta aspetta raga Raga ragazzi Mi trovo un po' in una situazione di Ti copro ti copro ti copro Ma che ti copro so me Ti copri Mi lascia a coprire Ok che che Guarda la regana Ti copro vai 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 E di anima me No Non c'è uno Non c'è uno Non c'è uno Ma ormai tu ti poti coprire ok addio addio basta so se non so a cercare ahia non è vero ma è la situazione che mi trovo io ciò al guada guarda guarda che pò i guarda che c'era contattina sparaglietti marzo, sono stato 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 mio più cazzola il costo il volo è un portico no e io ti ho dato che cazzo è bello rt carrile perché ho 17 i primi che si troppa sera di ora spare a casa di la coppia non solo consuma le cose le pignette spara un posto spara come se non c'è un domani ok vai betta la tutta ok, ok, ok io ho solo la pistola cazzo, mangio, mangio hai caricato la pistola oh, che cazzo la regola, ti divertaci tua che bello a 1500 punti che bello madame, mi fa ricordare una scena di film però non so il film quale che bello ritocchi a marita ma come per me un po' di coglia di santo giorno ora non riesce a chiamarli ma quanto tocca gare le fd 5 e 4 faccio ma ero sto santo e mi trovo bene il titolo perché se qualcuno non trovava la rega ma quest'ora c'è ancora la pasta aspetta 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 ecco ancora e compare e compare senza ero che fate 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 aspetta me la prima si vengono rianimare aspetta il tempo di me la rai e la rai e la rai e la rai e la rai tanto di io arrivando parola ora mi ha spostato al coglione e va beh, no dove cazzo m'hanno chiuso in questo boh c'è un certo di cosa cazzo la sua maniera perciò che c'è fess perciò che c'è un po' più lì per lo dai per se non puoi fare questo con me e con marchio oltre a parte ma dove senti se ci abbandona sempre quel coglione di merda non sono più lì ragazzi dove ti trovi animati a sono più di futtana c'è già ottimo attività che fare ci venga prende la casa si può se non lo so ho giàato e due secondi dopo siete morti tutti dove sei che palle che palle ma porco giuda basta sta partita di merda finiamola qui che fa ma perché non volete finire subito ok vai simon tu adesso ci vieni a prendere subito come faccio allora ho scoperto di avere tantissimi soldi in banca ho scoperto di avere tantissimi soldi in banca mi compro L'hai detto prima, l'hai detto 30 volte, l'abbiamo capito, basta Ti hai chiamato tua mamma, tu ti sei girato, lei ha risposto, sei caduta, hai speso soldi E hai speso anche le bimbi, te ecco qua, lo sappiamo L'ha parato a tutti il mondo Tu hai mai chiesto perché voglio riniziare Ammazzali, non correre via, devi ammazzarli Devi ammazzarli, sono zombie Vieni, vieni, oh, hai visto Hai visto cosa sta succedendo, mi stavano chiudendo perché non li avevo raggruppati tutti perché ti hai mai detto di ucciderli Ma Dio Santa, è una rega, non è una macchina fotografica Sì, ma se li attacco da vicino, prendo il colpo di danno così, vedete Oh, poverino, poi si fa la bua Ok, uccideli, ma non camperare qua dentro, che ti vuoi strabloccare, come ora No, no, dai, vuole fare pro come spagnolo, spagnolo solo può farcela No, è che non riesco a uscire, vedi che cosa non è Non ce la, sali sopra le scale Caro Fez, se stai guardando questo video, vorrei solamente dirti che tu potevi uscire da quella cazzo di parte Ecco qua, spero che stai guardando questo video, ciao Ci sono tre uscite, ci sono, tre uscite, c'erano, c'erano tre uscite di merda E vai, e vai, e vai Bravo, ma la faccio che ricorda, Simo, ma la faccio che ricorda E ci riproviamo, tranquillo, ci si riprova Perché ci si riprova, è la mia mamma C'erano tre uscite Fez, tre, tre fottutissime uscite Sulle scale non c'era nessuno, non c'era l'anima viva No, ma non hai capace di giocare, cioè No, io so come vuole fare Lui vuole fare il medio di escape così lo mandavamo a Scoscino Lo mandavamo a Penny Pie e lo mandava Lo mandava al mondo intero, ma non c'è Non ce la fai, non ce la fai quando ce ne sono troppi Ma guarda che non vedi che continuavano a entrare zombie, non potevo uscire Entravano dalla porta, dalla porta secondaria e dalla porta principale Dalle scale non c'era nessuno, non c'era anima viva Eh, vabbè, ma alla fine è stato meglio così, stavo scendo una partita di merda Ma era una partita ganza, mi piaceva, mi era piaciuto questa partita Saluto da Suprazione, da Simo Zampa e da Fez, da Manto che è stato dovuto andare Per la merda Loro so gli oghi senza la testa, so giocare meglio di me Ho, 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 ho